Il rapper Clementino su Radio Bari con Ovient, il suo nuovo singolo e noi continuiamo a parlare di musica, continuiamo a parlare di Summer Music Village perché c'è un'altra non edizione di un altro festival che fa parte di questo grande progetto che è il Summer Music Village e sto parlando del Bari in Jazz. Giunto anche questo festival è la nona edizione che si svolgerà dal 26 al 28 giugno sempre a Parco Perotti, sempre ovviamente con ingresso gratuito, ve lo ripeto tutti gli eventi che fanno parte del circuito del Summer Music Village sono tutti eventi gratuiti. Insomma ci saranno anche per il Bari in Jazz tantissimi ospiti internazionali ma non soltanto concerti, non soltanto ospiti ma anche molti incontri, tra l'altro proprio il 26 ci sarà un incontro sullo swing delle correnti marine perché il jazz è nato a New Orleans invece che a New York. Un ospite invece una prima nazionale, produzione speciale a cura di Rob Mazurek sempre il 26 giugno, il 27 giugno invece ci sarà il Marco Benvenuto Trio proveniente dagli Stati Uniti d'America, il 27 ancora il Dynamitri Jets Folklore e il 28 ci sarà un incontro sul jazz in Puglia tra sopravvivenza ed ipotesi di proiezione sulla scena internazionale. Il 28 giugno poi ci sarà Medeschi Martin Wood, un altro gruppo insomma proveniente dagli Stati Uniti, tantissimi ospiti, insomma ci si potrà veramente cibare di musica jazz, ci si potrà insomma confrontare su questo genere musicale così antico, così bello e a quanto pare sempre meno di nicchia e per fortuna. Insomma Bari si sta prendo tantissimo, tra l'altro ha sempre accolto la musica jazz in una maniera veramente splendida, tantissimi sono gli eventi che ci sono durante l'anno, ovviamente questo estivo credo ci sia cosa migliore di ascoltare musica jazz all'aperto su un parco poi figuriamoci. Questo è ovviamente un festival organizzato ci tengo a dirlo da Busuan con la regione Puglia e la provincia del comune di Bari in collaborazione ovviamente a tantissime macchine che si mettono in movimento per questi festival, uno tra tutti ovviamente Puglia Sounds che ha il merito veramente di essere come dico sempre un'officina di talenti e non solo. Quindi ve lo ricordo ancora una volta dal 26 al 28 giugno ci sarà il Bari in jazz e invece il giorno dopo al 29 al 30 ci sarà l'acqua in testa e insomma credo che saranno dei giorni belli ricchi dal punto di vista musicale e culturale soprattutto. La puntata di oggi finisce qui, l'appuntamento con radiobari.calt è ovviamente per domani e a domani vi ricordo la nostra pagina facebook radiobari.calt e il nostro indirizzo mail .calt o chiocciolaradiobari.net e ringrazio già Luigi Maggi per la regia di Radio Bari, Federico Semplice per la regia di Tele Bari, credo di aver detto tutto, sì ho detto tutto, buona giornata a tutti, a domani.